Pensioni di reversibilità nel mirino del governo. La stretta, per ora solo un'ipotesi, suscita già preoccupazione e forti reazioni. In Commissione Lavoro alla Camera è arrivato un disegno di legge delega che vuole ricalibrare le pensioni di reversibilità, le prestazioni previdenziali che spettano ai superstiti di lavoratori e pensionati, di solito i coniugi rimasti vedovi, ma anche figli minorenni o inabili. Finora questa pensione veniva erogata in base al grado di parentela e al livello di reddito. Ora il governo dice che bisogna considerare anche altro oltre al reddito, ad esempio i risparmi del superstite, l'eventuale proprietà di beni immobiliari e la presenza in casa di figli o altri parenti per settori di reddito. Insomma un quadro più completo ricorrendo al noto strumento dell'ISE, l'indice di situazione economica equivalente. Sulla sostenibilità della nostra spesa previdenziale si gioca una buona fetta dell'immagine dell'Italia e della credibilità del governo. Grazie. Grazie. Grazie.